Cari amici buonasera, in attesa della conservazione degli alimenti, questa volta tramite alterazione della temperatura, vogliamo darvi un cenno che abbiamo messo francamente la volta scorsa e spiegarvi il perché vi sia la necessità di operare processi di conservazione degli alimenti. La conservazione degli alimenti si rende necessaria per preservare nel tempo l'edibilità e il valore nutritivo di un prodotto agroalimentare, prevenendone le alterazioni accidentali. La maggior parte degli alimenti è soggetta ad influenze che ne pregiudicano il valore merceologico, agendo a vari livelli e con differenti combinazioni con uno o più dei seguenti effetti. Il peggioramento delle proprietà organolettiche, la riduzione della commestibilità, la riduzione del valore nutritivo e la riduzione del grado di salubrità. Le alterazioni possono essere di varia natura e presentarsi singolarmente o in modo combinato. Ad esempio le alterazioni di tipo fisico, sono alterazioni cromatiche e di consistenza. Alterazioni chimico-fisiche sono più complesse e interessano soprattutto l'interazione strutturale tra i differenti componenti dell'alimento, quali l'acqua, e alcuni componenti macromolecolari, per lo più grassi e proteine. Le alterazioni chimiche, che modificano la composizione chimico-nutritiva dell'alimento e sono dovute a reazioni o processi indotti spontaneamente su alcuni componenti chimico-nutritivi, dotati di una reattività intrinseca da fattori ambientali, quali l'ossigeno dell'aria, la luce, la temperatura. Sono tali, ad esempio, i processi ossidativi di natura chimica indotti sui grassi e sui polifenoli. Vi sono anche le alterazioni biochimiche, che modificano la composizione chimico-nutritiva dell'alimento e sono dovute all'azione di enzimi o alla semplice interazione chimica tra componenti organici dell'alimento. Sono tali, ad esempio, le ossidazioni di natura enzimatica. Le alterazioni microbiologiche modificano, invece, la composizione chimico-nutritiva dell'alimento e sono dovute all'insediamento o all'incremento di una popolazione microbica che utilizza lo stesso alimento come substrato di crescita. Rientrano in questo quadro anche le contaminazioni dell'alimento da parte di microorganismi patogeni che, pur non danneggiando intrinsecamente il prodotto, ne pregiudicano la commestibilità per il rischio della salute del consumatore. Scopo di preservare le proprietà intrinseche dell'alimento è quello di permettere l'utilizzo dilazionato nel tempo. In questo ambito, la conservazione è una tecnologia adattata per rendere fruibile l'alimento, tale quale in un arco temporale che va da pochi giorni ad alcuni anni. Un esempio emblematico è la conservazione del latte alimentare. Il latte, appena munto, è un alimento che non necessita di alcuna trasformazione, tuttavia è soggetto ad alterazioni microbiche che nell'arco di pochissime ore lo rendono incommestibile a causa dell'incremento della carica microbica patogena. I processi di trasformazione industriale del latte alimentare hanno lo scopo fondamentale di preservarne l'edibilità e renderlo utilizzabile a distanza di alcuni giorni o di alcuni mesi. Lo sforzo principale è rivolto a fermare o quantomeno a rallentare il deterioramento delle sostanze e quindi a prevenire i fenomeni di avvelenamento alimentare. Ai metodi tradizionali quali il raffreddamento e la messa sotto sale si affiancano, specie nella produzione di formaggi e vini, processi più moderni che prevedono l'aggiunta di microorganismi catalizzatori come i lieviti. Oltre al valore nutritivo nei processi di conservazione, si presta attenzione anche all'aspetto e al sapore, specie nelle economie di mercato in cui tali parametri forniscono valore aggiunto agli alimenti. La conservazione tende principalmente sia ad evitare la proliferazione di batteri, funghi e muffe e altri microorganismi che all'interno dei cibi tendono a produrre sostanze di scarto tossiche per l'uomo, sia a ritardare l'ossidazione dei lipidi responsabili del fenomeno dell'irrancidimento. Esistono tuttavia processi particolarmente finalizzati ad inibire il naturale invecchiamento che può occorrere durante la preparazione o la conservazione degli alimenti. Un esempio è costituito dall'ossidazione della polpa delle mele che dà luogo alla formazione della sgradevole patina marrone sulla superficie esposta una volta che il frutto è stato tagliato. In generale tutti i nutrienti una volta esposti a ossidazione perdono le loro originali proprietà fisiche e nutritive. Alcuni metodi di conservazione prevedono la sigillazione dei prodotti in appositi contenitori sotto vuoto immediatamente dopo il trattamento per prevenire la ricontaminazione. Altri, come l'essiccazione, permettono il normale impacchettamento senza la necessità di ricorrere a particolari precauzioni e garantiscono la conservazione degli alimenti per lunghi periodi. Veniamo ora propriamente alla funzione della conservazione tramite l'alterazione della temperatura. Si possono utilizzare due tecniche naturalmente. Quella delle basse temperature e quella delle alte temperature. Allora, vediamo le basse temperature. Le basse temperature possono essere la refrigerazione, la congelazione o la surgelazione. Esaminiamone le differenze. La refrigerazione è il processo finalizzato all'abbassamento della temperatura di un ambiente, una stanza, un vano, l'interno di un contenitore, questo al di sotto della temperatura, appunto, dell'ambiente. Particolari processi di refrigerazione sono associati all'azione di un vuoto spinto, vacuum cooling, oppure alla presenza di atmosfere controllate di ossigeno, anidride carbonica ed umidità, chiamate gas storage. La congelazione, invece, o congelamento, consiste nell'abbassare la temperatura dell'alimento ad un valore costante, che può variare, nelle varie circostanze, dai meno 18 ai meno 50 gradi centigradi. Questo trattamento porta all'uccisione di quasi tutti i batteri, ma non tutti. Il congelamento, però, ha un difetto. Durante la formazione del ghiaccio, questo potrebbe rompere le membrane cellulari dell'alimento e, durante lo scioglimento, potrebbero verificarsi, quindi, delle parziali perdite di sostanze nutritive. Al termine del processo di congelazione, il prodotto può essere conservato fino a due anni, a temperature non superiori a meno 15 gradi centigradi. L'abbassamento della temperatura avviene, in modo molto veloce, invece, nel processo di surgelazione, creando cristalli di ghiaccio più piccoli e non nocivi alle cellule. Ecco perché è preferibile sempre il processo di surgelazione. Come si ottiene il processo di surgelazione? Congelando in ambienti d'aria. Sono attrezzature costituite da tunnel a nastro continuo, le derrate vengono poste sul nastro e sono rivestite da una corrente di aria fredda. Questo è usato per la carne, il pesce e le verdure. Congelazione per contatto Sono macchinari, vengono utilizzati dei macchinari che sono costituiti da piastre o tubi opportunamente raffreddati che sottraggono calore al prodotto posto al loro contatto. Sempre per carne, pesce in blocchi, pollame. Il processo di raffreddamento può durare fino a due ore. Esistono congelatori ibridi che hanno le caratteristiche sia di quelli in ambiente d'aria sia di quelli per contatto. In questo caso il processo di raffreddamento avviene sia per conduzione che per convenzione. Vi sono infine i congelatori a gas liquefatto che consentono tempi di congelamento molto rapidi attraverso un processo con gas inerti che possono essere l'azoto liquido o vari gas refrigeranti derivati allogenati degli idrocarburi tipo freon 12 o di cloro di fluoro metano il cui uso è comunque vietato dalla legge italiana. Conservazione e surgelazione Sono frequenti i casi in cui l'integrazione tra conservazione e trasformazione fisica è a un livello tale da rendere le due tecniche inscindibili anche sotto l'aspetto concettuale. La conservazione ha un impatto tale da configurarsi al tempo stesso come una vera e propria tecnica di trasformazione fisica. Un esempio emblematico ancora una volta si può trarre dalla tecnologia lattiero-casearia nel comparto dei latti fermentati, yogurt e simili. La fermentazione controllata del latte è probabilmente la più antica tecnica di conservazione del latte concepita dall'uomo. La trasformazione in latte fermentato è a tutti gli effetti una tecnica di conservazione in quanto il pH del latte fermentato ha un effetto batterio-statico nei confronti dei microrganismi patogeni. La tecnologia è al tempo stesso una trasformazione fisica dal momento che il latte fermentato ha caratteristiche intrinseche tali da non poterlo identificare con il latte alimentare propriamente detto. Esempi di questo tipo sono ricorrenti nella trasformazione di vari prodotti agricoli, della carne e del pesce, attuata da alcuni comparti dell'industria conserviera classica, quelli destinati alla produzione delle confetture, dei succhi di frutta e dei cibi in scatola. In tutti questi casi, conservazione e trasformazione fisica si identificano concettualmente in un unico processo fondamentale. Utilizzo delle alte temperature. La prima, naturalmente, è la sterilizzazione. Il processo tramite termoresistenza. Quindi un andamento della riduzione delle cellule attive trattate per tempi diversi ad una medesima temperatura. La valutazione della resistenza al calore di qualsiasi tipo di microorganismo, che nella pratica industriale si rende sempre necessaria perché varia in funzione del substrato, mette in evidenza una circostanza per certi versi sconcertante. La morte termica avviene su base statistica. Infatti, ad una determinata temperatura fissa, ammettendo di partire con 100 spore per confezione, il numero di cellule che sopravvivono al trattamento si riduce di 10 volte, cioè del 90%, ogni pari lasso di tempo senza arrivare mai a zero. Il tempo di cottura e la temperatura da considerare validi alla sterilizzazione sono di 120 gradi centigradi per 33 minuti, da ripetere almeno 4 volte. Quando da 100 unità iniziali si arriva a 0,001, vuol dire che la probabilità che esista ancora una unità o cellula attiva è ridotta a un millesimo, o che ci può essere ancora un barattolo o confezione non sterile ogni mille. Con sterilizzazione degli alimenti si intende un processo termico utilizzato soprattutto dall'industria alimentare per conferire a prodotti in confezione ermetiche conservabilità, stabilità e sicurezza dal punto di vista microbiologico. Un alimento, dopo essere stato preparato per il consumo, se non utilizzato subito, deve essere conservato, ovvero reso stabile e sicuro per un ragionevole lasso di tempo. il processo comporta l'eliminazione o l'inattivazione dei microrganismi e degli enzimi presenti in grado di produrre modificazioni indesiderate. Anche ricordandoci la salsa di pomodoro di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, ricordiamo che nel processo una volta si utilizzava in casa si mettevano i barattoli ben chiusi in un grande contenitore, una grande pentola, un pentolone di acqua e si facevano bollire a lungo. Questo era...